Grazie 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 Prendendo Per rispondere Penso Reggendo una volta ascoltava le loro riviste che avevano scritto quindi insomma dalle pagine ho la sensazione che è un'Italia di punto diverso, con quella che aveva fatto per finire sono infatti ottenuti risultati incredibili, spesso e spizzabili ma la strada per una nuova credo, come questo è un salto di Francio, che studiare ciò che abbiamo fatto la situazione che ora, come imperativo, la bandaglia della mafia anche l'orario del governo è una bandaglia europea cioè non è più pensabile che la bandaglia del governo risponde per una gestione settimana che non divisa questo è un settimo che deve raccogliere quel modo del giro, quel modo di osservare il fenomeno non è una mala tradizione, ma solo una mala interpretazione è una nuova riservazione che abbiamo avuto il governo che abbiamo avuto il governo ultima direzione dico al Presidente per ora la Rai e la conversazione che lo so chiara con tutti i due di capire, non voglio dire che non voglio dire non voglio dire, non voglio dire se ti andrassi dietro, scriveresti lo stesso se non voglio allora, in realtà in realtà, un po' l'ultimo che si è venuto a me in Italia sono uno dei tanti che vedo così e devo dare una risposta per essere sincero in realtà per il mio gruppo di quello che fa trovo ragazzi sono orgoglioso che vado avanti nonostante sia molto complicato l'ultimo che hai visto in realtà come si dite però c'è una cosa c'è una parte di me che sinceramente dice ma se ti sapete non saperci diversamente posso mettere prudenza non so invece una parte di me tormentata come magari ci forse avrei dovuto farlo ma dall'altra non me ne è stato che difendere quindi quello che si fa e e sono qui è una parte di me che diceva che può fare il proprio lavoro bene in questo momento in Italia il fatto che anche in cui l'altro lo diceva è un gesto di condizionare quindi ho detto questo e alla fine il compito il centavolo della patenica con il sistema ci hanno avuto questo grazie 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 Grazie.